16-13, stretch con Isinaz al servizio della Trento che è stata molto più collettiva e ha alternato i giocatori nei momenti importanti Isinaz pesta, viene visto subito dal primo arbitro Puega, 14-16 Modena è ancora lì, come era stata lì nel secondo e nel terzo parziale chissà se avrà le energie per recuperare mentre viene di nuovo chiuso subito il cambio tra Sanguinetti e Cricco Corazzo Gio, Giovanni Sanguinetti in battuta 16-14-30, Sanguinetti forte ma Micheletto risponde come sa fare e poi la via a segno con il mani fuori Sarò ripetitivo ma la differenza è questa su una bella battuta di Modena Micheletto in tuffo, riceve praticamente perfetto e poi la via in attacco completa, 17-14 Ricezione di Erwin Gappette, Bruno per Erwin e la pipe fa tutto Erwin Gappette, fa tutto Erwin Gappette, 15-17 Ormai è un uomo solo al comando, lato campo di Modena Bruno che si aggrappa a lui per mantenere viva le speranze di portare la contesa al tiebreaker Rinaldi è un lontano ricordo, la Vumcia sta facendo una fatica enorme adesso però ci mette una grande battuta che è lei su Micheletto il punto del 17-17 che fa tornare la voce anche al Palapanini Palapanini che si stava abituando all'idea che questa partita pur ancora equilibrata man mano scivolasse via inesorabilmente di mano invece non è così c'è ancora luce, c'è ancora da giocare La Vumcia ancora forte, questa volta la via bene in ricezione Micheletto a segno, anzi no, la palla è fuori la palla è fuori e allora non si sa come c'è ancora una partita, c'è ancora vita c'è ancora speranza 17 Valsa Group, 17 Itas Trentino Time out Angelo Lorenzetti Adesso è il Gapet Forever Ok? Vamos via! Buongiorno! Anzi Lorenzetti ha dato un'indicazione adesso è un Gapet Forever cioè adesso andrà sempre a parlare in Gapet un po' lo conosce Ermin, un po' conosce Bruno insieme hanno vinto il triplete qui a Modena nel 2016 si rianima il Palapanini, 17 pari Alessandro tutti i commenti li faremo poi a fine partita al di là di tutti i rimpianti Modena allo scoccare ormai delle due ore di gioco ha tenuto in partita Trento ha tenuto in partita Trento è qui che se la gioca ancora vanno veramente grandi applausi alla Valsa Group Adola Gungia va forte Micheletto si difende Lorenzano in bagher la via contro il muro a tre tocca al muro ci arriva Rossini la ricostruzione la Gungia palla bassa difende Kazinski e allora Lorenzano in bagher ancora per la via non va a muro Modena difende Rossini Bruno per Renò Stankovic la palla sarebbe finita fuori dopo il tocco del muro e va a incocciare su Rinaldi che era saltato ancora una volta Modena non riesce a mettere la testa avanti ma questa volta solo e unicamente per sfortuna 18-17 Itas Alessandro non ci voleva qua poche colpe Rinaldi nel senso che era partito per la ricorsa sulla Super si è ritrovato il pallone lì il pallone sarebbe uscito di 3 o 4 metri non poteva farci niente la via forte forse fuori ma Rinaldi ci mette il bagher Bruno dietro per la gumcia alto a cercare le mani di Sbertoli mandato in copertura proprio su posto 4 da parte di Angelo Lorenzetti che adesso marca un po' meno la gumcia perché lo vede in difficoltà trova però le dita l'opposto turno alza subito le mani Sbertoli il primo arbitro poi che era incerto il punto è importante perché è quello del 18 pari Rinaldi nel primo quadretto della rete anche Rinaldi è calato tantissimo Rinaldi non mette a segno punti in attacco e ha messo a segno 1 soltanto il punto del 9 a 10 quello precedente l'abbiamo ricordato sul 4 a 3 del precedente la ricezione di Rossini deve correre Bruno contro il muro tra Erving la palla corta la difesa poi Kaczynski da fermo la difesa in tribuna di Lagungia e allora nuovo break Trento 20 a 18 non puoi abbassare il ritmo neanche di mezzo centimetro 20 a 18 20 a 18 Itas bella Trento comunque quella che stiamo vedendo nell'ultima ora di gioco quanto ha preso a difendere anche Trento Rodrashanin forte su Rossini Bruno per Erving Gappetta ancora un bilanciere sulla palla staccata la difesa di Kaczynski poi Micheletto da posto 2 pallone in mezzo alle mani di Erving Gappetta 21 a 18 prova l'accelerata definitiva la formazione di Angelo Lorenzetti Andrea Gianni non ha più time out prova a incitare i suoi da bordo campo e l'Erving Gappetta che comincia a capire che i suoi sforzi potrebbero essere stati vari ma brutta alzata di Drono si è andato troppo sotto Erving oppure l'alzata era ritardata si va ancora dalla gungia la palla è fuori la palla è fuori chiede il video check per il tocco a muro ma secondo me il tocco a muro non c'è secondo me il tocco a muro non c'è l'errore l'errore di la gungia sarà 22-18 Itas ci sarà da aspettare qualche istante ma la palla è fuori e non c'è stato il tocco potremmo dire così fin qui rimandato ad o la gungia nello scontro per capire se anche lui è diventato un opposto un opposto di primissima fascia qui inspiegabile la richiesta di video check dove l'ha visto il tocco a muro Erving che passa a un metro abbondante di fianco a livelli di sberta sì chiamata di video check francamente inspiegabile 22-18 per l'Itas che avanti ha anche 2-7-1 dopo la grande paura Trento è vicina alla Final Four di Coppa Italia Modena però non ha mai sbandato e allora vuole provarci vuole lottare fino alla fine se lo merita lo deve a se stesse lo deve ai 4.000 del Palapanini lo deve ai grandi sforzi che ha fatto lo ripetiamo tra le due squadre c'è una differenza di budget di qualità di centimetri di potenza nonostante tutto questo Modena è stata in partita lo è da esattamente due ore di gioco in questo momento e quindi lo ripeto merita gli applausi del Palapanini non so che ora si stia aspettando forse un problema al tavolo segna punti ora si può giocare si riparte con la battuta di Podraschanin 22-18 Trento Rossini per Salzi che è entrato al posto di Bruno c'è l'errore anche di Erwin Gappetta e qui forse c'è la parola fine alla partita 23-18 per Trento doppio cambio sono entrati Salsi e Sala sono usciti Bruno e Laguncio credi sì questo è il segno della resa di Modena la Modena che per due ore esatte ha retto il ritmo il peso il gioco di Trento che adesso paga Dazio all'enorme fatica la fisica senza dubbio lo spoluto mentale tenere in passo con i campionissimi di Angelo Lorenzetti che non si sono scomposti dopo un primo set perso male non si sono scomposti neanche di fronte alla grande rimonta di Modena sul finale del secondo set che gli ha posti a un passo dallo 0-2 l'hanno giocato con grande sicurezza quindi ho questo MP3-19 adesso sbagliato la battuta Podrashanin Dragan Stankovic salto flotta cercare la via recensione buona sberto di dietro per Kaziski i vani out di nuovo su Erwin Gappet 24-19 Filippo sono 5 match ball per andare a Roma in favore di Rita Strettini viene dato un cartellino giallo a Erwin Gappet che aveva sbattuto le mani contro la rete onestamente poi è che se la poteva risparmiare questa la partita praticamente finita e compromessa un gesto di frustrazione di Erwin poteva essere tollerato prima palla match Trento la battuta di Sbertoli Rossini poi Salsi si va al centro assegna Giovanni Sanguinetti e lui ad annullare la prima palla match e poi chiude il cambio Gianni dentro Bruno e Lagunza fuori sala e Salsi Rientra Bruno Modena deve scalare più di un Everest per cercare di portare a casa la partita anzi per cercare di portare a casa il quinto set a partire da un altro discorso Bruno forte sull'Aurenzano di sezione a filo ha una mano Sbertoli per Salsi che chiude la veloce del 25-20 chiama un videocheck sull'invasione aerea Andrea Gianni mi sembra un videocheck bellitario giusto per vedere se c'è un mezzo miracolo ancora da da esperire per la Valsa Group Modena che lo ripetiamo ha tenuto testa ingregiamente Alita Strentino Alita Strentino che ha fatto valere poi la propria forza la propria qualità maggiore la propria fisicità il proprio talento con Erving Pett che in ultima 2007 ha lottato da solo contro i propri avversari da un videocheck allora a decretare la fine o meno di questa partita con Angelo Lorenzetti che richiama i suoi e gli rimanete lì con la testa se per caso questo videocheck ci dà torto c'è da giocare ancora e c'è da chiuderla questa partita l'impressione è che il match si è chiuso vediamo cosa ci dice il replay assolutamente in linea Riccardo Sbertoli la vittoria allora è quella di Trento signore e signori noi vi ricordiamo il punteggio Trento batte Modena al palapanini per 3 a 1 25 a 17 Modena il primo set poi 28 a 26 25 a 22 25 a 20 tutto in favore di Trento i rimanenti tre parziali e si aggiudica come prima qualificata dell'otto gli altri quarti di finale si giocheranno tutti domani alle 20 e 30 un posto nella Final Four di Coppa Italia che si giocherà a Roma tra 25 e 26 febbraio noi vi ringraziamo per essere stati con noi per averci ascoltato ci sentiamo per i prossimi appuntamenti per i prossimi appuntamenti ci siamo allo stesso per i prossimi appuntamenti ragazzi e ci siamo facendo un bellissimo campionato con il re per la sua guida appoglierci l'unico per le ultime partite l'applauso per il palapanini per i nostri ragazzi per i nostri ragazzi